E qual è quindi la riflessione che propone Prezzolini facendoci questo racconto del Machiavelli calato nella politica? Ed è una cosa che veramente fa impressione, è l'idea che la coscienza della politica, avere piena coscienza della politica, piena coscienza di essere nella politica, piena coscienza di farla la politica, di crearla, di volerla la politica, non è nient'altro che la perpetuazione di una vergogna. Cioè è quella idea sfacciata, definitiva, ultimativa di una politica che non è nient'altro che un qualcosa che ci avvicina alla fisiologia del corpo umano, dell'organismo, è un qualcosa che nella perfezione sublime di un manicaretto poi diventa feci, è qualcosa che nella esigenza di far nascere un sorriso, di scatenare la letizia del convivere tra gli uomini, tra le genti, ha necessariamente il bisogno di mettere mano alle armi. E quindi l'invenzione necessaria della politica è quella degli eserciti, delle polizie, delle prigioni. E il Machiavelli raccontato da Giuseppe Prezzolini è ancora quello che si immaginava, e mi ricordo che quando facevo io il liceo veniva raccontato tra le righe, invece Prezzolini si diffonda in pagine e pagine per descrivercelo nell'acrapula, nell'abbandono totale ai vizi, nell'essere questo personaggio perfino ributtante, raccattato in un fondo di taverna ogni mattina dai suoi colleghi ripulito, alla bene e meglio, con secchiate d'acqua gelida e riconsegnato al suo banco di scrivano.